Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con i mercati. Il dato macroeconomico principale di quest'oggi ha riguardato il mercato del lavoro negli Stati Uniti con indicazioni sotto l'attese sui nuovi posti di lavoro. Questo dato potrebbe essere favorevole per gli investitori nell'ottica delle possibili mosse future da parte della Fed. Nonostante ciò la seduta di Piazza Affari è stata piuttosto sottotono, mentre tante aziende continuano a presentare i conti trimestrali. Il Futsimib aveva trascorso gran parte della mattinata con una percentuale positiva, come vediamo, ma prima delle ore 13 l'indice milanese è entrato in territorio negativo senza più uscirne. Il progresso pomeridiano invece ha consentito al DAX di chiudere con un chiaro guadagno a breve distanza dai 16.000 punti. La spinta a stelle strisce trova riscontro dopo la comunicazione dei dati sul lavoro citati poco fa. È attualmente il Dow Jones che sta superando il mezzo punto di rialzo, mentre il Nasdaq si sta avvicinando al più uno. Tornando a Milano, la giornata è stata pessima per Interpampe, che azzera tutti i rialzi della settimana, terminando sotto ai 4 punti e mezzo. Ne vediamo lo scivolone di metà pomeriggio. Prese di profitto sul settore farmaceutico, dove Diasorin e Ricordati accusano un passivo del meno 2,50% circa. Tutti i titoli del settore tech risentono del forte calo di Apple in seguito ai dati trimestrali negativi, così STM finisce tra i peggiori del Fuzimib a meno 2,49%. Vedite sulle utilities e il più colpito oggi è ERA, sotto al meno 2. Note a favore per Leonardo, che beneficia di raccomandazioni positive dagli analisti di banca Acros e occhi puntati anche su Monte dei Paschi, con risultati trimestrali nettamente favorevoli. Ottimo recupero di Tenaris, che grazie al più due odierno, ritorna sui livelli medi della settimana, poco sotto ai 15 punti per azione. Rialzi frazionari di poco superiori al mezzo punto per Fineco e poste italiane. Per quanto riguarda la moneta unica, il progresso più vistoso è quello registrato dall'euro-dollaro che, come vedete, nel primo pomeriggio ha iniziato un rally che lo ha riportato sopra quota 1,10. Sono comunque positivi ma in misura minore anche gli altri cross principali come euro sterline in area 0,8640 ed euro yen in area 156,40. Detto ciò non mi rimane che passare la linea a Filippo Giannini con l'analisi del Nasdaq dopo i risultati trimestrali di rilievo. Salve a tutti, ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Filippo Giannini di tradingfacile.eu per dare uno sguardo agli indici statunitensi dopo le ultime trimestrali di rilievo. A te la parola. Sì, ciao Rossana e bentrovata. Sì, oggi diamo uno sguardo al Nasdaq dopo le trimestrali di ieri di Apple ed Amazon. Luna apprezzata dal mercato in maniera negativa, questo per quanto riguarda Apple, mentre invece accolta positivamente quella di Amazon che effettivamente ha mostrato dati ben al di sopra delle aspettative. In generale per il listino dei tecnologici la settimana è stata caratterizzata fin qui da vendite e questo appunto sulla scia o meglio hanno contribuito a queste vendite sicuramente il declassamento del debito statunitense da parte dell'agenzia di rating Fitch. Questo ha portato ad un innalzamento appunto dei rendimenti dell'obbligazionario e di conseguenza vendite sul Nasdaq che è uno dei listini appunto che risente particolarmente dei movimenti sull'obbligazionario. La giornata di ieri come detto è stata caratterizzata appunto da volatilità, il mercato ha venduto in una prima parte di sessione per poi andare a recuperare i livelli di apertura nell'ultima parte appunto della giornata e su questo chiaramente ha contribuito anche la buona trimestrale di Amazon. Detto questo che cosa possiamo aspettarci nella giornata odierna? Beh la giornata odierna sarà sicuramente importante perché alle 14.30 avremo i dati sull'occupazione statunitense e anche qui attenzione perché bisognerà capire quale sarà appunto l'orientamento che il mercato prenderà dopo i dati. Perché? Perché se il mercato statunitense continuerà a mostrarsi comunque solido e anche sul fronte appunto della retribuzione dei salari, questo secondo me potrebbe essere accolto in maniera negativa dal comparto azionario perché per questo è una mossa che potrebbe spingere la Fed a continuare appunto con la stretta monetaria. Detto questo sul fronte appunto tecnico nel brevissimo potremo invece in base a quello che ci sta dicendo il grafico vedere un rimbalzo. Perché? Perché nella giornata di ieri il mercato ha difeso in chiusura o nel livello che ritengo particolarmente importante ovvero quota 15.450 punti. Il mercato questa notte ha completato questo modello di accumulazione su base oraria, un test spalle rovesciato recuperando quota 15.500 quindi ritengo che se dopo le 14.30 dovessimo continuare a tenere questo livello il mercato potrebbe accelerare al rialzo e l'obiettivo di oggi a mio avviso è quota 15.625 punti. Quindi il rimbalzo secondo me potrebbe estendersi fino a questi livelli. Ragionando in un'ottica un pochino più di lungo periodo quello che abbiamo visto nelle ultime sessioni potrebbe essere un po' il mood di agosto cioè un mercato che pur senza grossi scossoni a ribasso ma comunque potrebbe continuare a muoversi in laterale. Comandano queste ultime barre ribassiste del 20 luglio e del 2 agosto quello che vediamo che appunto queste barre dopo appunto aver provocato delle forti vendite ma sui tentativi di reazione vediamo che i livelli di apertura sono stati fin qui venduti quindi anche qui qualora il rimbalzo dovesse estendersi fino a quota 15.750 occhio perché appunto dovremmo continuare a vedere delle vendite su questo livello. Viceversa se il mercato invece dovesse dare una prova di forza e andare secondo me a recuperare almeno i 15.850 punti allora questo sarebbe una mossa foriera di nuovi massimi annuali per quanto riguarda il Nasdaq. Viceversa se oggi se oggi dovessimo invece mollare i 15.450 secondo me aspettiamoci una ulteriore discesa settimana prossima fino a 15.150 punti. Perfetto Filippo ti ringrazio per tutte quante le informazioni e rimando con te l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti. Con questa intervista si chiude l'edizione odierna, grazie per l'attenzione, un caro saluto e un augurio di buon fine settimana, arrivederci. Grazie a te Rossana, grazie a tutti.